Che cosa succede nelle palazzine Exmoi? Report sulla grande sfida di Torino ed Italia. I malati dopo il grande clamore per l'addio al DJ, voci, testimonianze e dal cottolengo la prova che non esistono malati impossibili. Ecco la prima pagina, poi la finestra sul mondo, focus sull'Europa che forse non possiamo evitare. Il voto in Olanda, il Papa in Sudan-Sudan, le scelte di Trump, il taglio ai fondi per l'aborto e tanto altro, le ombre della globalizzazione con il professor De Aglio. Torino e le sue periferie dopo il nostro viaggio, il prossimo viaggio nelle altre periferie, da Chieri a Veneria a San Mauro. Parrocchie, vent'anni di scout con Don Paolo Gariglio a Nicolino, la scuola di calcio del Sant'Anna che porta all'oratorio nei villaggi del Benin, dalla provincia Trofarello e 70 in mobilità dal Carrefour. Nicolino, la città più povera della cintura, la mobilitazione dell'Alto Canavese per nuovi immigrati, il gemellaggio di Nole con le zone terremotate, famiglia, notizie da Chieri, Leini e Moncalieri, povertà, i gradini della rinascita, cultura, il cardinal Carlo Maria Martini nelle film di Olmi, i gioielli delle Techerai a Torino, la voce e il tempo, la voce dei cattolici di Torino.